Ha voluto fortemente Montella, oggi è contento di questa scelta dopo che l'inizio era stato difficile? Ma sono contento dal primo giorno che è venuto, ad altronde per averlo sono stato una settimana a combattere con i signori da Fiorentina e soltanto la forza, l'amore e la stima mi ha portato a fare questo perché Montella parte essere un grande allenatore è uno di grande spessore e poi è uno che ha voglia di vincere come me Infatti da quando è presidente i derby vanno sempre molto bene, si sente anche un po' un portafortuna di questa squadra Ne voglio vincere altri, adesso pensiamo a Juventus che lì sarebbe un'altra grande soddisfazione Ma la squadra la rinforza un po' a gennaio o no? Eh certo, metteremo gli elementi giusti ai posti giusti Ci fa dei nomi? E lei come si chiama? Riccardo Uno può essere Riccardo, guarda bello, guarda che tipo, tu come ti chiami? Giovanni Hai capito? Riccardo, Giovanni, eh? Non mi sappiate, sapete tutti quanti i nomi, però vediamo che ci tranne una grande sorpresa Vogliamo solo giocatori che hanno voglia di vincere perché noi siamo una squadra che vogliamo vincere Vi ringrazio i ragazzi che sono stati veramente bravi Mi fanno venire a armare il decoro, però all'ultimo minuto Pensa se gli entra quel collo lì del Barreto, eh? Gli è cantata la samba Gli è cantata la samba